la basilicata con matera pisticci craco e la riserva regionale dei calanchi di montalbano ionico protagonista del video racconto pubblicato su instagram dal noto inviato di striscia vittorio brumotti una vera e propria mission basilicata per esaltarne le bellezze anche quelle nascoste luoghi dell'anima e paesaggi mozzafiato dove sperimentare la tecnica straordinaria del campione di bike trial brumotti è stato uno dei protagonisti della prima edizione del basilicata bike forum andato in scena matera e organizzato dalla regione dall'apt basilicata un lavoro impreziosito dalle immagini aeree di paolo patrizi in basilicata c'è un potenziale incredibile a più volte ricordato brumotti che omaggia così i suoi panorami mozzafiato bellissimi e indimenticabili grazie a tutti